Ciao Claudio, messaggio per te, seconda settimana, arrivo dei ragazzi da una settimana, decisione che i ragazzi staranno con me per tutto il periodo, si procede, faccio tante cose, lavoro, medito, protocollo, ginnastica e adesso mi spaventa un po' fare la spesa, devo capire quando andare e per il resto procedo bene. Volevo lanciare solo un messaggio, sentendo dire che la gente ha paura di entrare in depressione, è che bisogna imparare a meditare, questo è il mio punto di vista, per riuscire un po' a far riposare la mente. Ci sono due modi, uno è fare tante cose e uno è anche meditare, e secondo me in questo momento che siamo tutti in casa, quei cinque minuti di meditazione aiutano un sacco. Questo lo volevo dire come messaggio, così, se riesci a appropriartene. Un bacio, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.